siamo live ci piaceva usare questa cosa benvenuti a tutti siamo qui con matteo che torna sui nostri schermi per una whisper challenge sai cos'è la whisper challenge cuffie musica ad alto volume io leggerò delle frasi a te ma non non sentirai la mia voce e dovrei provare a indovinare dal labiale vedi mi sto un po appinando quindi sarà sarà terribile allora proviamo subito io metto musica metti per la musica e allora ci abbiamo clementino saluto a clementino che ci segue sempre così no 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 è alto il volume è a basso il tempo passato fu anteriore il tempo ma ho passato passato fu 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 anteriore anteriore addirittura no anteriore aspetta il tempo senza il tempo passato il tempo passato fu fu fuori no il tempo passato fu anteriore 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 bravo anteriore al tempo senza te vabbè indovinato è andata è andata chiusa chiusa la la polemica polemica tra tra me il sottoscritto quante volte è questa è questa è una bella situazione perché non vale questa l'ho acqua è truccata l'ho apprezzata però sono stato onesto ti ho fatto capire subito che l'avevo capita questa non l'ho capita no non l'ho capita questa non la conosco e è un gol è un gol che dedico che dedico in particolare in particolare a tutti a tutti è un io mi ritiro da veramente forte con 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 la tazza con la tazza un mezzo penso un un mezzo prezzo meglio mezzo 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 vescovo con la tazza un mezzo con la tazza un mezzo pazzo fatto pazzo matto pazzo pazzo con la tazza un mezzo pazzo vuota vola vuota vuota il il pozzo fozzo del 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 palazzo palazzo con una tazza il pazzo pazzo svuota il pozzo del palazzo è un proverbio c'è c'è maggior maggior maglioni no c'è maglioni maggior maglioni maggior maggior ma 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 va bene carne carne al fuoco carne fuoco al al fuoco ecco al nostro arco al al nostro anno arco arco anno arco allo arco cala io taglio no arco 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 anche se anche se l'arco l'arco bravo lancia le frecce lancia le frecce o tutta vai a rinizia il maggiore no c'è maggior c'è maggior c'è maggior c'è maggior carne al fuoco al nostro arco taglia no come la che capi che taglia la carne c'è maggior carne al fuoco c'è maggior carne al fuoco al nostro arco al nostro arco che frecce anche anche se l'arco anche se l'arco non ha frecce lancia le frecce bravo parlate pari no parlate parlati parlate 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 di 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 due due per per volta parlate non più di due per volta va bene Matte secondo me anche a sto giro abbiamo fatto una figura barbina almeno io no no non si dice così però ci siamo ci siamo divertiti e dobbiamo cambiare solo chi scrive le frasi bisogna cambiarle vince Matteo Politano la prima edizione della Whisper Challenge ci vediamo in una prossima puntata qui sui nostri canali ciao Matteo ciao a tutti sempre Forza Napoli sempre